Tra i progetti fondamentali spicca ovviamente il restauro del nostro patrimonio del Teatro Donizzetti. Sicuramente la candidatura di Bergamo si potrà avvalere di tre importanti riqualificazioni infrastrutturali dal punto di vista della cultura. Da una parte la riapertura della Carrara che avrà un peso importante, dall'altra questo è già avvenuto da pochi anni, ma comunque il teatro sociale è stato restaurato ed è pienamente attivo e naturalmente di qui al 2019 ci si augura che Donizzetti a sua volta sia alla sua massima forma. Quindi sarà un'ulteriore opportunità. Le operazioni richiedono anche un budget stratosferico, chiamavano così, si parla di una cifra che si aggira sui 130 milioni. Verrete aiutarti anche dai privati, scommetto, per raggiungere questo ambizioso traguardo? Una candidatura, si chiami Bergamo, si chiami Ravenna, si chiami chi che sia, voglio dire Matera, non si muove da sola senza l'aiuto dei privati, questo è ovvio. E quindi va detto che è importante che questo consiglio direttivo, questo comitato che si è formato, non consiglio direttivo, che è un comitato che si è formato, che vede dentro provincia, regione, comune, università, camera di commercio, diocesi, già implicita che per arrivare fino a qui c'è stato uno sforzo opportuno e corretto, coerente. Considerate, è importante dire questo, che chi giudica le tante città candidate italiane, chi giudicherà dopo il 20 settembre questo panel internazionale, italiano ed europeo, non guarderà tanto all'esposizione economica presunta o promessa, quanto alla capacità, infatti ti chiedono anche di sapere quello che è avvenuto negli anni precedenti. Quindi, come a dire, non vogliono città che creino avventurismi economici o progettuali, vogliono città che sappiano dimostrare che in questi anni e negli anni a venire siano in grado di dare gradualmente un miglioramento anche nell'investimento economico a riguardo.